Qual è l'importanza delle piccole e medie imprese per la crescita economica globale? Le piccole e medie imprese sono fondamentali perché sono l'unico modo per far crescere l'occupazione. Quindi in un mondo che si sta globalizzando, ma soprattutto in un mondo che è sempre più dominato dalle nuove tecnologie, l'unico modo per creare posti di lavoro è sviluppare le piccole e medie imprese. Quindi questo è chiaro ormai a tutti. Le piccole e medie imprese sono peraltro l'ossatura del tessuto economico europeo, in particolare quello italiano, e quindi credo che questa iniziativa di elite sia proprio qui per rispondere a queste esigenze. Di cosa hanno bisogno in particolare? Hanno bisogno sicuramente di aiuto, di education, di finanza per ovviamente finanziare i progetti di sviluppo, l'internazionalizzazione e tutto quello che sono progetti di crescita che oggi, come oggi, le banche in generale non sono più in grado di finanziare. Quindi da questo punto di vista le imprese, le piccole e medie imprese hanno bisogno anche di un ambiente, di un ecosistema che gli aiuti anche a confrontarsi tra di loro per vedere quali sono degli errori che possono evitare di fare. Proprio perché piccole e medie imprese hanno risorse finanziarie limitate, se commettono degli errori molto spesso sono fuori dal business. Come si è evoluto in questi anni Elite? Elite oggi è un grande network che raggiungerà entro la fine dell'anno mille aziende, sono presenti 32 paesi, 580 di queste quasi mille aziende oggi sono italiane, perché abbiamo cominciato in Italia, abbiamo cominciato nel 2012 e quindi non è sorprendente che siano in maggioranza e poi ricordiamoci che l'Italia è sicuramente in Europa il paese che ha più piccole e medie imprese, quindi da questo punto di vista è anche una proporzione che viene in qualche modo rispettata nei numeri che vediamo oggi.